Benvenuti sul canale Sani, Ricchi e Liberi. In questo tutorial andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti e le ultime news che ci sono state nella zoom ufficiale del primo di febbraio della Endotech con Jeremy Roma, Iliam e Edward che ci hanno raccontato tutto quello che sta succedendo in Daisy per la chiusura, cosa succederà a Daisy, il lancio del nuovo progetto, come funzionerà il nuovo progetto, nel piano compensi, nell'ingresso, nell'accesso, insomma non hanno svelato il nuovo progetto ma ci hanno spiegato già tante 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 cose e andiamo a vederci tutti quanti i punti salienti e i punti più interessanti. Come sempre vi ricordo che per entrare in Daisy adesso per essere pronti per il lancio del nuovo progetto il 21 di febbraio serve Tronlink Wallet o Tron Poken Wallet, anche Clever, l'importante che sia un wallet in TRC20, la blockchain di Tron, con dentro circa un migliaio di TRX e tutti gli USDT che vi servono per comprare i tier che partono da 100 dollari e vanno al raddoppio fino ai 51.000 erotti del tier numero 10. Adesso andiamo a sentirci direttamente la traduzione in italiano dell'ultima zoom della Endotech per il crowdfunding che è arrivato al termine Daisy. Crowdfunding che ricordiamoci sempre ha oggi 232.000 utenti iscritti attivi e all'interno 632 milioni di dollari a lavorare. Doveva raccoglierne solo 500, c'è solo una battuta, doveva raccoglierne 500. Adesso ce ne sono 632. Andiamo a vedere allora che cosa ci raccontano i tre SEO del progetto. Allora buongiorno a tutti, siamo qui in vivo, in diretta, siamo in vivo anche sul canale YouTube. Questo è l'ultimo webinar che facciamo sul crowdfunding daisy perché sono tre anni che siamo qui e tutti i mesi abbiamo fatto una zoom e quindi adesso andiamo a fare l'ultima zoom, la zoom di chiusura, poi ci sarà il lancio a Dubai. È stata una cosa grande e il prossimo progetto invece sarà semplicemente epico, tutti lo stanno aspettando, tutti vogliono sapere, beh sappiate che abbiamo un piano, una strategia, vi diremo tutto, abbiate fiducia. Voglio che possiate vedere più cose, però fidatevi di noi, dovete aspettare Dubai. A Dubai avremo la zoom più grande che è stata mai vista e credetemi sarà incredibile vedere la reazione che uscirà da questo evento perché il nuovo progetto è straordinario. Sappiate che già persone importanti si stanno unendo a questo progetto e sarà così grande che è veramente impressionante quello che sta succedendo attorno al lancio del nuovo progetto. All'evento del Dubai sarà una presentazione totale, ci saranno i video, ci saranno i pdf, vi daremo i video di marketing, le presentazioni in powerpoint, in tutte le lingue. Tutto questo è già pronto ma viene presentato tutto all'evento di Dubai, quindi sarà una cosa veramente emozionante essere presenti in Dubai. Adesso siamo nelle ultime tre settimane e queste sono le ultime tre settimane finali, cioè incredibile. Abbiamo finito il crowdfunding con dei grandi risultati. È vero? È vero Iliam? Sì Geremia, è vero? Non abbiamo perso nemmeno un mese a fare tutti i mesi le zoom, le abbiamo sempre fatte. Siamo sempre stati dentro questo progetto a contatto con la comunità e adesso seguiremo con il nuovo progetto e continueremo con le zoom perché questo fa parte della nostra cultura. È emozionante vivere tre anni in Daisy, adesso vedere che Daisy andrà a diventare grande e lanciare già un nuovo progetto perché seguiamo col modello di crowdfunding. Quindi come dicevi tu Geremia, quando sentirete di che cosa si tratta la prima volta questo nuovo progetto, beh dovete sapere che tutti rimarrete emozionati perché noi abbiamo preparato qualcosa di veramente grande. Sì abbiamo annunci emozionanti per l'evento di Dubai, per la fase 1, perché sarà la fase 1 del nuovo progetto. Ci sarà Anna Becker che tifa per noi e avrà da raccontare tutte quelle cose favolose che stanno succedendo attorno a Daisy, alla Endotech e attorno al nuovo progetto. Se ancora non avete preso la decisione di stare nell'evento di Dubai, potete ancora dal vostro back office prendere i biglietti, venite perché sarà il più grande ed elettrico evento che nessuno ha mai visto nella storia del trading Forex. Allora entriamo direttamente nelle informazioni che vi voglio dare, vi condivido lo schermo del computer. Allora che dirvi, intanto a Dubai all'evento Limitless chiuderemo il crowdfunding di Daisy, ma lanceremo un nuovo progetto e preparatevi perché sarà veramente qualcosa di grande, ma grande davvero, grande come qualcosa che nessuno ha mai visto per la location, per la città e il crowdfunding è ufficiale, Daisy termina. Non chiude, eh? Termina, cioè diventa grande, ha finito quello che doveva fare e quindi adesso fermeremo il fondo del trading. Ah, permettetemi una cosa, l'evento pool del Limitless, per chi ha partecipato e per chi ha vinto, viene pagato il 15 di febbraio, ve l'avete chiesto, quindi ho letto la domanda, quindi è giusto rispondere adesso. Giusto per quelli che non lo sanno, i pool degli eventi come questo di Limitless, sappiate che noi prendiamo tutti gli eventi, tutti i fondi che noi prendiamo della vendita dei biglietti dell'evento, li mettiamo in un pool di trading, il pool di trading lavora e guadagna e tutti quanti gli utili, i proventi che produce, noi li diamo come bonus a tutte le persone che hanno partecipato agli eventi. Quindi sappiate ecco come noi produciamo i fondi che diamo durante gli eventi, è sempre grazie al nostro trading. Ricordatevi che per che i pool siano pagati, dovete avere almeno cinque utenti diretti che abbiano preso l'evento, il biglietto per l'evento di Dubai. Quindi quello che serve sono i cinque biglietti venduti all'interno della vostra struttura. Ok, siamo arrivati alle ultime tre settimane e poi il crowdfunding termina, sì termina. Prima che termini, quindi andiamo fino all'ultimo giorno, tanti leader ce l'hanno chiesto, quindi sì, ok, continuiamo la promozione del Momentum Pack dell'85-15, quindi chiunque partecipa fino al 20 sera a mezzanotte, l'85% dei propri fondi andrà all'interno del trading, mentre il 15% andrà a favore del progetto. Quindi sì, a tutti pari opportunità, solo per l'entrata è 70-30, è il livello 1, tutti gli altri livelli sono 85-15, poi vabbè chiaramente c'è il livello numero 10 che come sempre è 90-10, ma solo il tier numero 10. Quel giorno a quell'ora termineranno le contribuzioni, il 20 di febbraio a mezzanotte è l'ultimo momento in cui si può entrare con dei fondi all'interno di DAISY, finito. Come vi dicevo, il 90-10 è il solo relativo al tier 10, è un Momentum Pack. Ricordatevi che tutti gli utenti che entrano all'interno di DAISY continueranno a ricevere tutti i premi del live trading, tutti i premi del crowdfunding, quello che voi dovete capire che entrare in DAISY è continuare a vincere quello che avete vinto fino adesso. Il progetto continuerà a pagare in genealogia in tutto quello che avete fatto, tutto, e tutto quello che avete costruito e che costruirete in DAISY oggi vi seguirà nel nuovo progetto. Avete capito che cosa abbiamo costruito noi in questi anni? Abbiamo costruito un sistema di crowdfunding che funziona assolutamente bene e che possiamo replicarlo e duplicarlo per tantissimi altri progetti ed ecco che tutte le strutture che tu costruirai in DAISY in qualunque progetto che verrà presentato, loro ti seguiranno. Quello che costruisci in DAISY è per sempre ed è per sempre in ogni progetto e ogni progetto ha la sua rendita, ma la struttura è sempre la tua, è sempre quella. Quindi perché possiamo avere un impeto incredibile al lancio del nuovo progetto? Beh, perché? Perché noi partiamo dalla base di DAISY, non partiamo da zero. Sì, è il primo giorno, è un nuovo progetto, ma noi non partiamo da zero. Noi partiamo dai numeri di base di DAISY. Quindi noi starete col nuovo progetto con noi di nuovo per i prossimi tre anni, mentre siete già con DAISY per i prossimi tre anni. Quindi entrando in DAISY oggi, per i prossimi tre anni, automaticamente tanto in un nuovo progetto quanto in DAISY. DAISY continuerà a pagare il suo, un nuovo progetto pagherà il suo. Un'entrata, un lavoro, due rendite già certe costruite. È adesso che bisogna approfittare di questa opportunità, perché con lo sforzo di una sola azienda si costruisce qualcosa di grande in due aziende. Il crowdfunding di DAISY è finito, ha vinto, è arrivato dove doveva arrivare, adesso dovrà chiudere sei mesi, andrà avanti, lavorerà a pari con la Endotech, e poi ci sarà uno sviluppo in tutti i prossimi anni. Adesso si parte con un nuovo. Ecco, il nuovo che parte adesso andrà a prendere tutta la vecchia struttura di quello che hai costruito in DAISY. Quindi tutto quello che hai costruito in DAISY ti seguirà nel nuovo progetto. Tutta la struttura, tutto. Dopo sei mesi che DAISY avrà chiuso, si riaprirà fino ottobre e solo i partecipanti al CLEB di DAISY, perché sarà a quel punto un CLEB, un fondo comune di investimento, solo loro potranno di nuovo investire in DAISY e di nuovo aumentare i loro fondi. Quindi potranno aumentare i loro fondi, aumentare ancora i loro guadagni e ridurremo a quel punto lì le performance fee. Le performance fee le porteremo dal 30 al 20%. È già un guadagno certo, vi spiego subito come funziona. Oggi, quando tu hai qualunque guadagno su DAISY, poi c'è un 30% sul predievo, perché quindi ci va la endotec e quindi ci va la struttura. La endotec non ha più bisogno dei tuoi soldi e quindi la endotec percepirà solo più un 5% di fee, ma il 15% rimarrà alla struttura. Ed ecco che quindi tu come struttura guadagnerai il tuo 15% che hai sempre guadagnato, ma il cliente, chiunque ha i fondi dentro DAISY oggi, guadagnerà da immediatamente da oggi un 10% in più. Perché noi non riprendiamo di tasse. Andiamo a parlare allora di quello che succederà il 21 febbraio, perché noi il 21 febbraio al Coca-Cola Arena di Dubai lanceremo il più grande progetto che il mondo ha mai visto in questo campo. Ti puoi qualificare con una promozione prelancio che dura fino all'ultimo giorno. No, le abbiamo già pubblicizzate più e più volte, ma ne abbiamo voluta aggiungere una. Una che deve essere per tutti, perché vogliamo davvero avere il più grande slancio che nessun progetto ha mai visto. Ed ecco che abbiamo aggiunto questa nuova promozione. Questa potete sbloccarla davvero tutti quanti. Potete sbloccare dalla generazione 1 a 4 sul nuovo progetto, vuol dire avere già tutti i bonus bloccati, semplicemente qualificandoli dentro DAISY, da qua fino alla chiusura dei corfandi di DAISY, con 8.000 dollari di volume personale in referral. Quindi chiunque sta costruendo oggi in DAISY e può avere e arriva a avere 8.000 dollari di volume, bene, sappiate che hai tutti quanti i livelli 1 fino al 4 già sbloccati come pagamento dei bonus nel nuovo progetto. Vale la regola del 50%, quindi la gamma più forte ti può dare solo 50%, quindi se un amico ti mette 8.000 dollari tu non hai completato il volume, ne valgono solo 4 ma solo sulla gamma più forte, per il resto 8.000 dollari di personal referral di volume e tu sei qualificato già nel nuovo progetto. Io vi dico già che cosa vuol dire, vuol dire che noi probabilmente nei primi giorni del lancio del nuovo progetto noi faremo più di 100 milioni di volume di ingresso. Immaginate ad andare a vedere con le generazioni da 1 a 4 sbloccate quanti premi di bonus prenderete voi anche se non avete comprato ancora voi quei livelli lì, anche se nel nuovo progetto non ci sarà quella regola ma la vedremo più avanti. Poi c'è sempre la regola che se hai 25.000 dollari di volume vale sempre la regola del 50% sulla gamba più forte, ma se hai 25.000 dollari di volume di referral personali e hai due diretti che hanno comprato fino al tier numero 5 o superiore, non importa, bene tu avrai tutti quanti i bonus bloccati fino al livello numero 5 e se avrai invece 200.000 di volume con 5 diretti che hanno comprato fino al tier numero 5 tu avrai sbloccato fino alla generazione 8 di volume. Rimane ancora scritto piccolino sotto, il pace setter gold che è un pace setter sbloccherà fino alla generazione numero 9 e il leader pace setter, cioè colui che sotto a 3 pace setter già sblocca fino alla generazione 10. Tutto questo voglio di nuovo continuare a dirvi che quello che otterrete in DAISY è quello che verrà spostato nel nuovo progetto, è quello che otterrete già nel nuovo progetto. Certo, i fondi li avrete messi in DAISY che pagherà quello che DAISY continua a pagare, quello che sta pagando e che sarà sempre di più e anzi come abbiamo annunciato, le leve dalla prossima settimana in DAISY verranno aumentate e verranno alzate, quindi torneranno alti valori e si guadagnerà sempre di più, ma quello che otterrete sono i bonus di livello già sbloccati nel nuovo progetto e tutta la struttura costruita in DAISY che vi segue all'interno del nuovo progetto. Credetemi, ci sarà un impeto così massivo, così massivo al lancio che sarà qualcosa che davvero oggi è difficile da spiegarvi. Andiamo a vedere adesso le domande dei leader che ci hanno fatto, giustamente, che vogliono sapere quando i pool vengono pagati. Il pool viene pagato il 15 di febbraio, l'abbiamo già detto prima, quindi chi ha partecipato al pool limitless il 15 vedrà i fondi, il momentum pack 85-15 viene esteso fino a fine del crowdfunding, il crowdfunding chiude ufficialmente il 20 di febbraio a mezzanotte, il performance fee ufficialmente passerà dal 30 al 20%, ma il 15% continuerà a essere pagato alla struttura, è solo l'endotec che prende il 5% e tutti quanti gli utenti che invece vorranno uscire da DAISY avranno, dopo il giorno 20, un formulario, un formulario da compilare, loro compileranno il formulario, noi vedremo che sono effettivamente loro e potranno uscire da DAISY recuperando tutti quanti i loro fondi e chiaramente non parteciperanno più ai premi produzione, certo. Chi ha partecipato invece ha vinto i bonus dell'anello e ha vinto gli anelli, allora ci contatti su www.daisyringeioners.com, completate il questionario e anche questo vi arriverà l'anello, ve lo spediremo. Voglio ricordare a tutti quanti gli utenti che vogliono uscire da DAISY non potranno più contribuire in futuro in DAISY, quindi sarà un treno perso proprio, non pagheremo nessun premio, ma tutte le persone che escono da DAISY ma che hanno di diritto ricevuto delle azioni della Endotec riceveranno le loro azioni della Endotec comunque, però non prenderanno più né i bonus residuali, né i bonus trading, né i bonus matrice, niente. Ottimo per tutti è che questo fine settimana andremo ad aumentare la leva del trading nel Forex e quindi che vedremo l'aumento dei profitti perché possiamo permetterci di rischiare e questo sarà una grande notizia per tutti quanti perché vedremo di nuovo importanti percentuali, proveremo leve molto più pesanti, molto più rischiose e quindi andremo a un prossimo livello, anche perché vogliamo arrivare al lancio del nuovo progetto, anche con cifre interessantissime di nuovo su DAISY, quindi crediamo che alla fine della prossima settimana i risultati del rendimento di trading saranno veramente grandiosi e tutti stiamo qua a guardare i back office cercando questo, non è una garanzia certo, è trading lo sapete, ma noi sappiate che ogni volta che abbiamo alzato le leve, voi avete visto sempre grandi numeri arrivare, oggi possiamo permetterci di farlo e lo faremo, quindi è una grande notizia che stiamo aspettando per tutti, sappiate che a breve partiranno le leve trading. Tanti ci hanno chiesto se si può vendere o cambiare il nome del biglietto del Limitless 2024, no, non si può fare, non vogliamo creare confusione o casini, chi vuole il ticket si compra il ticket, il ticket è tuo e non è cedibile a terza parte. Dai, tutti piccole chicche, perché la gente vuole sapere del nuovo progetto, ma vi do solo un'idea di quello che possiamo darvi, ma non vi dico che cosa è. Il nostro prossimo progetto è nel cuore dell'industria più grande e popolare del mondo, potremmo chiamarlo un progetto di passione, è una delle categorie più importanti e rilevanti letteralmente nel mondo. Ci sono più di 500 mila milioni di dollari che lavorano in questo ambiente e quindi il prossimo progetto è qualcosa che nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai visto. È qualcosa, è realmente distruttivo, è veramente dirompente. Però i dettagli a Dubai, tutti i dettagli, video, presentazione, tutorial, pdf, li pubblicheremo tutti in diretta all'evento di Dubai e saranno fatti in tutte quante le lingue del mondo. L'equipo che hai costruito in Daisy è permanente, l'equipo che già hai è permanente. Quando comincerai saranno tutti dentro, come Geologia, da dentro il nuovo progetto, così che sappiate che ogni persona che lavora in Daisy e che ha costruito in Daisy non solo non ha perso ma ha vinto, ma l'organizzazione continuerà a seguire anche nel nuovo progetto. Quindi quello che costruisci in Daisy è per sempre e questo è un enorme beneficio del modello di crowdfunding di Daisy, appunto come vi dicevo. Abbiamo costruito anche un modello che funziona per tanti altri progetti. La partecipazione al nuovo progetto richiede una contribuzione che va da 100 a 100.000 USDT, però l'importo non va a infettare l'ingresso delle persone come era in Daisy, che devevi seguire dalla primo all'ultimo. No, tutti dovranno entrare e comprare il livello 100, ma poi ogni persona sarà libera di comprare la matrice che preferirà comprare. Quindi i benefici all'interno del piano di compensazione non sono legati ai benefici del pacchetto che tu hai, ma sarà un beneficio legato al volume. Ma questo ve lo spiegheremo bene più avanti, non vogliamo dirvi troppo, però per costruire qualcosa di grande sappiate che non sei tu che devi avere il pacchetto come era prima in Daisy. Quindi anche se tu non ce li hai, non importa, guadagnerai lo stesso in base a determinati altri valori. Potrai contribuire da 100 fino a 100.000 USDT. Come ho detto, a differenza del modello di Daisy, che si passava dall'1 al 2 al 3 al 4 al 5, in questo modello no, si entra tutti dal 100, ma poi puoi passare al livello 9, livello 10, livello 8, livello 7, compra quello che preferisci. Abbiamo fatto così in modo che le transazioni costino meno anche a livello di commissione e di fee, per fare in modo che costi molto meno. Il prossimo piano compensi che andremo a presentarvi avrà delle ricompense epiche e sono emozionato a raccontarvelo, perché davanti all'evento di Dubai vi racconteremo tutto, ma è un piano di compensa epico. Ah, fondi di bonus con paghi diari che tutti i giorni pagheremo, ma non posso dirvi di più, ma credetevi. Voi impazzerete. Io sono emozionato a raccontarvi tutto questo, ma voi impazzerete ad ascoltare. Faremo tremare l'intero settore con bonus pool, con pagamenti giornalieri e anche bonus di contribuzione per quelle persone che... Non fatemelo dire. Vi dico solo che io so già che molte persone già le prime settimane avranno recuperato tutti i loro fondi grazie al potere di questo piano compensi. La domanda di oggi è quando rientrerò sarà già risolta, perché sarai già rientrato. Ma non fatemi dire niente. Io vi dico solo che questo settore muove più di mille milioni di dollari all'anno, questo settore. Questo progetto è emozionante. Tenete in mente che adesso sono 18 mesi che ci stiamo lavorando dentro e tenete presente che il crowdfunding chiude almeno fino a metà settembre. Ad agosto ci sarà un evento globale, di nuovo, e poi ci sarà anche il lancio di Daisy con la Endote, che sarà qualcosa di grande. abbiamo una notizia grandiosa, ma non possiamo, non possiamo davvero. Vi racconterò tutto quanto all'evento di Dubai. È troppo bello. Dai, tre settimane, ragazzi. Tenete duro. Tengo duro pure io nel non dirvi niente, però con orgoglio abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Daisy è stato la ciliegina sulla torta, il capolavoro. Tre anni di duro lavoro, ma ha centrato l'obiettivo. Abbiamo raggiunto quello che dovevamo fare. sappiate che noi siamo qua, noi ci siamo, la comunità c'è, la Endotech c'è, sappiate che siamo forti, anzi, siamo grandi, siamo consapevoli di essere grandi, abbiamo i soldi e raggiungiamo i risultati. Andiamo a prenderci i risultati. E possiamo viverlo come una comunità intera, ai più alti livelli, a tutti i livelli, dal più piccolo al più alto. Abbiamo raggiunto questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto, Endotech c'è dietro, lo sa, continua ad appoggiarci, continua a lavorare su Daisy per potenziare ancora di più l'intelligenza artificiale e quindi complimenti a tutti voi, a tutti voi che avete partecipato, complimenti alla Endotech, complimenti alla comunità. La nostra missione era creare un modello di crowdfunding dove tutti potevano guadagnare, l'abbiamo fatto con equità, certo ci mancherebbe, c'è tanto dietro, ma noi l'abbiamo costruito, e l'abbiamo costruito con Daisy e di nuovo complimenti a ognuno di tutti quanti voi, soprattutto a quelli che rimarranno e che spingeranno ancora al nuovo progetto. Io ricordo che quando abbiamo fatto la prima presentazione di tutti i tempi della Endotech, Daisy, l'abbiamo detto, è il nostro primo progetto, certo, oggi, questa è la Zoom, dove invece diciamo Daisy, lo abbiamo completato, siamo cresciuti, siamo diventati grandi, abbiamo imparato e adesso siamo pronti per lanciare il nuovo progetto e per dire al mondo che Daisy è pronta a salire al secondo livello e siamo emozionati per dirvi che tutto succederà all'evento del 21 di febbraio a Dubai, all'evento Limitless al Coca-Cola Arena, lì sarà veramente qualcosa di grande, davvero, se riuscite prendetevi il biglietto ancora, venite perché sarà l'evento bello, più grande e più grande che abbiate mai visto. Edward Eillian, allora, una chiamata breve ma intensa, però, dite qualcosa voi adesso. Jeremy, puoi tornare a raccontarci come sbloccare la prossima generazione perché vorrei che sia chiaro, vorrei che sia veramente chiaro che la gente capisca quanto è grande il poter sbloccare i bonus già nel nuovo progetto sfruttando Daisy oggi, quello che Daisy sta offrendo. È una cosa incredibile come fare un salto nel passato con un lancio nel futuro. Questo è quello che offre Daisy. Allora, pensate a quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi come Daisy. Noi abbiamo realizzato il record del settore, dei numeri enormi, dei guadagni enormi, abbiamo fatto parole e le abbiamo sempre mantenute. Anche quando è andata male qualcosa abbiamo sempre recuperato e abbiamo sempre pagato, abbiamo sempre sistemato tutto, quindi tutti i leader di Daisy sanno chi lavora in Daisy, com'è la endoteca e qual è il nostro pensiero. Quindi sappiate, voi tutti già lo sapete, ma ditele alla vostra comunità che il prossimo progetto per noi sarà massivo. Noi partiamo come base da quello che ha costruito Daisy, chiudiamo il capitolo Daisy con una grande vittoria, dopo tre anni chiudiamo con un grande capitolo e mentre lo chiudiamo e quel capitolo diventerà grandissimo, lanciamo con lo stesso sistema di crowdfunding il progetto 2. Quindi di nuovo ve lo dico, fidatevi di noi perché è un'idea così dirrompente e qualcosa di così stravolgente che va a cambiare la regola dei giochi di questo settore all'interno di tutto il mondo. Voi sapete che se l'abbiamo detto prima e lo dicevamo di Daisy e Daisy oggi è quello che Daisy ho, sappiate che quello che faremo nel prossimo progetto sarà quel qualcosa che sarà ancora più di Daisy. Voi andrete a scommettere in qualcosa che è grandioso, che è vincente, che è Daisy e che avete il 100% la certezza che grazie a questa nuova promozione ancora che abbiamo aggiunto tutti troverete già sbloccati i bonus nel nuovo progetto. Ecco quindi perché sfruttare oggi l'ingresso in Daisy perché già hai garantito due vittorie in una volta e non è che lo diciamo tanto per dire siamo certi di quello che diciamo. Noi abbiamo lavorato perché questo lancio sia perfetto, sia qualcosa che deve avere un'esplosione così grande di impeto emozionale di energia che l'intero mondo dovrà parlare di quello che la Endotec avrà lanciato come nuovo progetto. La gente si dovrà credere se veramente starà succedendo. La gente che entra oggi in Daisy si chiederà dopo una settimana ma davvero sta succedendo questo? Ma davvero stiamo muovendo questi numeri? Sì, perché sarà come entrare in un sogno perché noi quello che annunceremo a Dubai nessuno l'ha mai fatto, nessuno l'ha mai visto, nessuno l'ha mai pensato, nessuno l'ha mai implementato. Questo progetto è stato realizzato durante 18 mesi al fianco di Daisy. Il nostro team ha lavorato con 30 milioni di dollari già invertiti, già investiti all'interno di questo progetto e è stato impegnato nello sviluppo per ben 18 mesi ed è un lancio che sarà massivo. Quindi quando hai qualcosa così oggi come ultima chiamata, come ultima possibilità non puoi andare a perderla. Non c'è un... non posso farti una promessa di matrimonio, non posso fartela, certo, però voglio dirti qua stai andando a vincere in due grandi bei progetti. Quindi ve lo dico, preparatemi in queste ultime tre settimane perché in queste tre ultime settimane avete queste ultime possibilità. Sbloccate la generazione 1-4 nel nuovo progetto portando in Daisy 8 mila dollari di volume, 8 mila dollari di volume della vostra struttura, dei vostri referral e voi avete già sbloccato la generazione 1-4. Sblocca la generazione 5 di bonus nel nuovo progetto con 25 mila dollari di volume all'interno dei Daisy con due utenti diretti che hanno comprato dal tier 5 in su. Sblocca fino alla generazione 8 con 200 mila dollari di volume e 5 utenti diretti che hanno comprato dal tier 5 in su. Ricordate sempre che in tutte le promozioni vale la regola del 50% sulla gamba più forte. Ok? Quindi se un utente mette 8 mila dollari tu non sei qualificato per la generazione 1-4 perché vale la regola del 50%. Tutti avete in questo modo la possibilità di contribuire in Daisy e rimanere in Daisy con le azioni della Endotech e continuare a vincere con Daisy ricevendo i premi bonus e tutto quello che pagherà mentre avrete già garantite posizioni vincente al giorno 1 del lancio di un nuovo progetto dirompente che nessuno al mondo ha ancora mai visto e che nessuno al mondo ha mai visto un lancio come quello che noi faremo grazie alla Endotech al 21 di febbraio a Coca-Cola Arena di Dubai. Questo significa vincere in Daisy e già guadagnare e vincere già dal primo giorno del nuovo progetto e credetemi faremo 4-5 volte i volumi e i numeri che abbiamo fatto con Daisy. Daisy ci è servito per imparare questo sarà il primo vero grande lancio del nuovo crowdfunding della Endotech. Abbiamo costruito tutto sul vecchio piano di Daisy perché? Perché il piano di Daisy di compensazione ha zero rotture Daisy funziona alla perfazione. Pensate che cosa succederà all'impeto enorme che avremo al primo giorno ai primi giorni a tutti i giorni dopo il primo giorno uno dietro l'altro ai pagamenti immediati che il contratto fa immediati con i bonus sbloccati per tutti. immaginate che cosa succederà mentre Daisy continuerà con questo trading con i suoi bonus con i suoi pagamenti con tutto incredibile quello che succederà il primo giorno e avremo i fondi di bonus di pool diari giornalieri che andranno a pagare giorno per giorno giorno per giorno i primi sei mesi sarà un'onda dirompente sarà un lancio che nessuno ha mai visto noi faremo nei primi sei mesi quello che Daisy non ha fatto nei tre anni ricordatevelo quello che noi vogliamo fare sappiate che siamo dentro la cosa più grande del mondo e noi faremo in sei mesi quello che Daisy ha fatto in tre anni ve lo ripeto sono qua per ripetervelo ok e finisce così la zoom di presentazione come sempre Jeremy Roma è emozionante quando parla questi sono i dati di Daisy in questo momento 232.000 membri dentro con 632.700.000 dollari al lavoro serve Tronlink Wallet per entrare all'interno di Daisy servono almeno circa o più che bene 800 comunque da sopra i 600 TRX e tutti gli USDT che vi servono per poter comprare i TRX vi metto il reflink qua sotto nella descrizione del tutorial per entrare in Daisy ricordatevi che c'è sempre un discorso di spillover struttura quindi è importante stare con chi produce e lavora e state tranquilli che dopo tre anni Daisy non si molla per nessun motivo qua si produce e si lavora datevi da fare fino al 20 di febbraio con Daisy entrare in Daisy a costruire in Daisy e poi preparatevi dal 22 perché partiremo con un nuovo grandissimo progetto ciao a tutti vi auguro il meglio anche con Daisy che poi è solo una delle sette entrate automatiche che trovate sempre dentro l'info box su Telegram